Allora, come prepariamo il prosciutto di tiramissù? Quindi il prosciutto di tiramissù è pronto, quindi la prepariamo come si fa con il mascarpone, però invece di ponere il caglio, è trattato con l'acido citrico, quindi sul succo di limone, che si fa con il mascarpone, quando uno va sul latte, non cagliata, li potete ponere pure l'acido citrico, che si fa con il limone, che si fa con il limone e cagliata, quindi questo che trattiamo, è una panna normale, quindi con questa panna la poniamo su casi, e la facciamo su bollire, finziamente la prima punta, di 80 gradi, facciamo su quindi 80 gradi, tutto con questa panna, però il faggere, su mascarpone che siamo su, che siamo su ambarende, ok? quindi, facciamo su mascarpone, la poniamo su a bollire, finziamente su 80 gradi, quindi uno va che sello, come la portiamo su, quindi abbiamo su posto tutto a bollire, potremmo su trattare o costo, proprio il faggere, come ho inteso il caglio, su limone, o direttamente me sul limone, vista la quantità che siamo su trattende, e di manna, questo è uno, duecento che in banta grammo, questo è pure uno quarto, duecento che in un millitro, questo è pure uno quarto, del limone, ma, quindi, i binicchi, da poco poco solo, proprio lo farei cagliare, così, quando si caglia, lo vado a poter ponder, quindi, come, siamo su fattende, questa panna, ed è liquida, come esattiamo, su una bindichina diminutosa, che diventano proprio solida, alle vaga di arriare, a 60, 80, 70, 70 gradi, così, ok? Quindi, siamo su Zirendi, ancora su, sabanna, siamo su Zirendi e sabanna, così, come questa panna, queste già, già i pudende, quindi, lo poniamo su, a fuoco lento, eh, magari lo spostiamo su, insatte lo furredo, progetto questo furredo, noi, metà, metà uno, quindi, lo spostiamo su in nuova, insatte lo furredo, così, in su minore, così, lo spostiamo su casa, in su furredo minore, e continuiamo su, a girare, eh, a girare, uno poter ponere pure sul latte, non è che cambia da meta, come te cosa, questo è solo uno pago prudenza, questa panna, ok, ecco, eh, che è arrivato su tempo, poniamo su, su, su succo e limone, mh, mh, però lo fa che regagliare, e che este una, un, un serriato, come antiacido citrico, mh, mh, casino, li poniamo su, sul succo da limone, eh, e da voi si, i, i, ziramo su uno pago, eh, e, potete vedere, chi este cambiente, come ente densitate, di su fluido, este già, è già cambiente, no? si potete vedere, subito, che este cambiente, da voi si, l'amo su te facere, riposare, eh, l'amo su te facere, riposare, una quattro d'ora, una quattro d'ora, lo facchiamo, riposare, e, e, si è preparato su, su, puro, su, su, pro, otto ora di riposo, lì, dàghiamo su otto ora di riposo, so, eh, e da voi si, questo è stavato, quasi, no? quindi abbiniamo su, che, questo, queste andande, eh, e quindi come siamo arrivati e lo facciamo sul riposare ben di chi minuto ok lo facciamo sul riposare ben di chi minuto soffurre lo spinto ma si quindi lo potremmo solo portare in questa zona e noi facciamo tutto sempre lo lasciamo e prepariamo sul filtro, sul filtro lo lasciamo per otto ora e così uno può fare che vuole sugaglio però invece da avere sugaglio, questo sugaglio è uno di origine animale e questo invece è tutto di origine vegetale e questo vegetariano lo trattano così, invece quello che vuole sugaglio che è di animale lo vuole sugaglio, questo non fondano, questo è una calta, una calta pro su furro, provi a filtrare e invece il vegetariano che mi fa che ne facciamo così e sul limone, provi su sugaglio è di origine animale e non lo trattano, è di un grasso di origine animale e non lo trattano, è di un intervento di mammella così, provi sull'insalimentazione vegetariana e quindi invece provo a fare il cagliare sul sugaglio, il sauce vegetariano trattano su succo di limone così, questo è è serriato pure l'aceto citrico, ma è da buone porre pure il sassetto, e se uno buone il sassetto è stessa mattissicosa che sia, no? E quindi, come esattiamo su bintichi minutoso e vizzerlo da poi, sì, ok? Già, e dai come comunque si può decidere chi è ad alleato una certa densità, ad essere lenne una certa densità, quando noi esattiamo su come lo facciamo a intepidire, da voi si lo buoniamo su innoche e a su manco 8 horas in drento a su frigo, da voi si iniziamo su a fare su tiramisù, ok? Facciamo su tiramisù, e quindi siamo su i vattene, su mascarpone, su mascarpone si faccia dei casi, potete abbaidare chi è già, e si chiede qualche burra di grasso, pure, proiette, e non vado a questa separazione tra il latte e il limone, e non vado a vattene, non vado a cagliare bene, no? E quindi la caglietta questa burra di grasso, quindi se vanno a questa burra di grasso, no? E si chiede sul riflesso, si chiede sul riflesso, quindi esattiamo, insomma, si chiede che comunque è stessa densità, non meta, ma un opaco denso, pruso di candula, e lì è normale. Già il risultato che io non le ha sapanna, e non le ha sul latte, e il te proiette, sapanna di per sé, este un opaco, pruso, o densa. Ok, e questo è già la procedura di pastorizzazione, e non è solo la procedura di raggi ultravioletto, ok? Ad una pastorizzazione è in vento, quanto è il procedimento. Ok, quindi esattiamo. Quindi come sono in passata, si chiede un minuto, eh? E potremmo già abitire chi è stato di fintenne, e non è proprio il solito, hm? Come è che cosa, eh? Ah, come esattiamo ancora. Quindi come sono sette minuti, eh? Sette minuti, so. E quindi, da voi, lo poniamo su casi. E questa carta al forno, è come è una carta normale, solo che in suo forno non brucia, e così, quando lo poniamo su, eh? Quando lo poniamo su in vento, questa carta gli dà che la possibilità deve falare, deve falare e colare, normalmente. Ok? Quindi dai che minuti so, so ripassata, eh? Esattiamo su ancora che in due minuti so, hm? E tra voi se li poniamo su, ma, volendo lo potremmo supponere pure come, eh? Pro esattare chi, quindi, lo poniamo su, direttamente dai gommi, ok? E, lo poniamo su in vento e sul frigo, che si è? Lo poniamo su in vento e sul frigo. Lo poniamo su in vento e sul frigo, pro... quindi lo poniamo su... ... 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 ok poniamo su casi inizierà a fare che le sottolinea messo quindi non le ha un solo portato su, lo poniamo su in frigo, quindi lo poniamo su in frigo come, e così è la portato su in frigo, ok? come è in frigo, lo poniamo su pro 8 ore già, ok?